Negli uomini non si trova più compassione, sicché non vale il confessare i propri difetti o svantaggi, neanche si stimano più i pregi veri se non se ne fa gran chiasso, sicché la modestia non può far altro che danno. E se chi il possiede non se ne mostra persuasissimo è come se non gli avesse. La prima regola in questo particolare è di fornirsi di una buona dose di presunzione e mostrare a tutti di tenersi per una gran cosa. Perché se gli altri da principio ne sono ributtati a poco a poco ci si avvezzano e cominciano a credere che tu abbia ragione. Ciascuno s'adopra a più potere che il vicino sia più basso di lui, sicché il vicino bisogna che faccia altrettanto. Se è più basso davvero non s'aspetti nessunissima discrezione quando voglia cedere e confessare che il fatto sta così. Anzi, tanto più bisogna che s'adopri per pareggiarsi agli altri e coprire il vero e farsi stimare e conseguire quello che non merita. E perciò conviene che l'ignorante s'arroghi dottrina, il plebeo nobiltà, il povero ricchezza, il brutto bellezza, il vecchio gioventù, il debole forza, il malato sanità e via discorrendo. Tutto quello che tu cederai devi stimare che sia perduto intieramente e non ti verrà nessun frutto dall'averlo ceduto. Che se da te medesimo ti porrai mezzo dito più basso degli altri, in qualunque cosa gli altri ti cacceranno un braccio più giù.